Fabrizio, abbiamo presentato Bazzol che è una piattaforma che consente alle imprese di generare passaparola sul web in maniera semplice ed efficace grazie ad un algoritmo che permette di individuare gli influencer all'interno della propria nicchia di mercato e di generare passaparola remunerandoli con offerte speciali. Ciao, sono Fiorenzo e sono co-founder di MarketMind. MarketMind produce previsioni di borsa mediante tecniche di intelligenza artificiale. Queste previsioni sono disponibili a chiunque gratuitamente. Gli annunzi e presento Deschero. Deschero è un software per la gestione e per l'assistenza di clienti online. È un software web. Ciao, io sono Cristiano Mei. Emiliana. Tauro. La nostra associazione si chiama CleanUp. Il progetto che abbiamo presentato oggi qui alla battaglia delle idee è il nostro progetto di bike sharing da portare a Napoli. Intendiamo fare questo attraverso l'implementazione di un'app che darà la possibilità di fruire maggiormente il servizio attraverso la relazione con partner sul territorio che possano supportare il progetto e la nostra finalità è quella di poter dare la possibilità al cittadino napoletano di utilizzare e avvicinarsi sempre per l'utilizzo della bicicletta, un mezzo ecologico e soprattutto economico ed ecosostenibile. Io sono Chiara Mannella, mi occupo di comunicazione e pubblicità all'interno di questa azienda e sono qua per presentare Player che è una piattaforma per applicazione. Ciao, io sono Franco Graziosi di Ubit. Siamo qui oggi a questo evento a presentare il nostro progetto Ubit, un aggregatore di offerte che permette di visualizzare le offerte in funzione delle preferenze di ciascun utente e il punto geografico. Quindi tutte le offerte intorno a tutti. Mi chiamo Siciliano Daniele e il titolo dell'idea è Social Business Weekend Startive Work, che è una piattaforma green, la quale sfrutta l'ecosostenibilità delle nostre attività quotidiane utilizzando hardware eco. Contribuisce a diminuire il global warming, la disabilità e la crisi economica. Ciao, sono Marco Meola, sono dottore di ricerca della Facoltà di Architettura di Napoli e ho presentato qui alla battaglia delle idee REHAB, The Research Gallery, un nuovo modello di community per i ricercatori per favorire l'interdisciplinità tra i ricercatori e dare maggiore visibilità alla loro produzione scientifica. Ciao, mi chiamo Alessandro Felago. Il mio progetto è My City Web, la tua città a portate di click. Tramite di voi puoi ricercare il negozio all'interno della tua città oppure un ufficio, puoi inserire recensioni, effettuare check-in, esprimere preferenze per i negozi. Gian Paolo Cretani è My Joe Page, un social network che vuole rimettere a posto il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è cambiato ma lo stesso mercato del lavoro ancora non se ne è accorto. Noi forniamo tanti strumenti che hanno l'obiettivo di mettere in risalto ciò che le persone sanno fare, le vere competenze. Ciao, sono Marco, il mio progetto è City Now e tendo ad organizzare per ambito territoriale di riferimento tutti quelli che possono essere i contenuti media relativamente ad una città. Ciao, noi siamo Make Your City, io sono Raffaella, io sono Sabrina, io sono Daniele. Make Your City è un social game, applicazione di Facebook, che ha l'interesse a portare i progetti che appunto vengono realizzati in questo giorno di città. Ciao, io sono Gianluca Manca e presento Intertwine, una piattaforma di editing online collaborativa. Signori Vincenzo, Gaming Society, integrazione e comunicazione.